sviluppare un nuovo prodotto è una sfida richiede un team qualificato e motivato nonostante le difficoltà dell'impresa grazie al nostro team abbiamo introdotto un nuovo modello di flexible più performante ed efficiente questo nuovo dispositivo è in grado di gestire un range di componenti maggiore rispetto ai modelli precedenti con impatti positivi sulla velocità e la produttività delle linee è così che l'innovazione incontra le efficienze